Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Per alcuni giorni la canicola è rimasta lontana dal nostro territorio, ma a partire da questo weekend il ritorno del gran caldo sarà sempre più concreto sull'Italia. Una nuova fase anticiclonica di origine africana è alle porte e ad oggi sembra poter diventare eccezionale e duratura. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 29 luglio. Al mattino cieli soleggiati e azzurri su entrambe le regioni. Solo nel pomeriggio potranno verificarsi locali annuvolamenti sui monti lucani, ma con rischio di precipitazioni quasi nullo. Sul resto del territorio lucano e pugliese splenderà incontrastato il sole. Le temperature, come notiamo dalla grafica e come preannunciato, aumenteranno ovunque con valori massimi che torneranno a toccare i 34-35 gradi sulle pianure interne del Foggiano, Materano e Tarantino. Venti deboli settentrionali o di direzione variabile sulle aree interne, a regime di brezza invece lungo le coste, e per quanto riguarda i mari in generale risulteranno da calmi a poco mossi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Lacu, che fotografa questa bellissima alba avvolta dalla foschia, ripresa dalle scogliere di Castro in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.